Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale o bentornati se questa è la vostra prima volta qui. Ciao, mi chiamo Francesca e non faccio un video su YouTube da un anno e mezzo. Non so bene cosa si dica in questi casi, forse avrei dovuto documentarmi prima, cioè andare a cercare su YouTube qualche video di qualcun altro che faceva il suo ritorno su YouTube. Suono di grilli. Se siete qui e state guardando questo video ed è la vostra prima volta, grazie. sono sicura che i prossimi saranno diversi. Se invece voi siete vecchi iscritti che si ricordano di me, grazie mille. Se vi state chiedendo perché ho lasciato YouTube, l'ho lasciato perché un anno e mezzo fa, dopo un'intervista che qualcuno di voi conoscerà, qualcun altro no, ma non fa niente. Se non la conoscete potete anche risparmiarvela. Per me era difficile, è stato difficile gestire la cosa. Mi stanno scrivendo. Per me è stato difficile gestire la cosa. E quindi semplicemente l'ho rimossa. Ho tolto il canale YouTube, ho tolto tutti i video che c'erano su questo canale YouTube e li voglio rendere di nuovo pubblici. Anche se mi sono messa a guardare alcuni video e dicevo, oh mio Dio, ma che cosa sto facendo, che cosa sto dicendo? Fermati Francesco, stai dicendo delle cavolate e poi con le sopracciglia e vabbè, tutte queste cose. Però è stata una parte della mia vita, una parte divertente della mia vita e ci ho messo tanto per riaprire questo canale YouTube perché non volevo che nessuno sapesse che io avevo avuto un canale YouTube per, principalmente come al solito, una mia caratteristica, paura del giudizio. E invece vabbè, oggi nel senso voglio essere libera, voglio avere il mio canale YouTube dove postare video sul make-up, video sul non make-up, cavolate, chiacchierate e fare quello che mi piace. Perché magari sono una persona a cui piacciono tantissime cose, però il fatto che la società ti dica che tu ti devi specializzare in una cosa e fare solo quella è una cavolata, perché poi io personalmente mi sento incompleta, io ho bisogno di esprimermi, ho bisogno di ridere, ho bisogno di fare cose artistiche, ho bisogno di fare cavolate, ho bisogno di fare stupidaggini. Non ho bisogno magari di metterle tutte in questo canale YouTube, però il canale YouTube è una gran parte di quello che mi mancava. Mi mancava tantissimo fare video, da morire, cioè proprio mi mancava con tutto il cuore. E poi quando c'erano alcuni di voi che mi scrivevano quando torni su YouTube e rispondevo sì, cioè non lo so, in realtà stavo lì tipo Dio, cioè ancora mi scrivono per chiedermi quando torno su YouTube e io non ho parole. E quindi sento che sto chiacchierando tanto di cose completamente inutili. Se volete sapere com'è stato quest'anno per me, magari farò un get ready oppure faremo un video. In America vanno molto adesso gli assumptions video, quindi possiamo fare anche una tag del genere dove voi fate delle supposizioni su di me tramite Instagram, che ve lo lascio qui sotto e io rispondo a queste supposizioni. Non lo so, ho tante cose in mente, tanti video da fare, so che magari non è stata una spiegazione esaustiva sul perché io sia sparita per un anno e mezzo, ma sono sicura che ci sarà occasione di chiarire. E tutto qua. Spero che ci rivedremo sul mio canale nel prossimo video video. E basta. Questa cosa è troppo imbarazzante perché accendere la macchinetta e sapere cosa fare, tutorial, cose eccetera, è una cosa. E accendere la macchinetta e dover spiegare perché si manca da un anno su YouTube è un'altra cosa. Grazie per il supporto del Durante non YouTube e del mio anno di YouTube. E nulla. Spero che ci rivedremo qui. Ciao. Non so più che dire. Quindi, ciao. Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, nel qual caso non ve lo ricordaste visto che è un anno e mezzo che non sono su YouTube. Oddio, se questo fa strano. Come facevo prima a farlo così? Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Se questa è la prima volta... Buongiorno... Buongiorno a tutti e benvenuti nel... Non lo devo fare sto video.